8 vittime, tra cui 6 bambini. Questo è il bilancio dell'esplosione di una mina anti-uomo avvenuta domenica 9 luglio in Somalia, vicino alla città di Bulaburde, nello stato di Aershabelle. Ne dà notizie all'Unicef, precisando che i bambini viaggiavano con le famiglie su un'auto risciò che ha impattato con la mina ed esprimendo le più sentite condoglianze alle famiglie ai feriti l'augurio di una rapida guarigione.